Il catalogo ChefLine quest'anno è composto da ben oltre 224 pagine, su cui sono raffigurate giacche, pantaloni, accessori per tutti i gusti. Gli utilizzatori dei prodotti rappresentati su questo catalogo sono molteplici. Vanno dai cuochi ai pasticceri, ai panettieri, agli alimentaristi, ai cioccolatai, ai ristoratori, alle scuole alberghiere, alle associazioni di categoria, ai cake designer, eccetera. Le divise Isacco, grazie alla loro qualità che dura molto a lungo nel tempo e al prestigio che conferisce l'indossarle, vengono scelte dalle migliori associazioni di categoria sia italiane che europee. Il catalogo si apre con le nuove giacche, pantaloni e accessori stampati, con le originalissime ed esclusive stampe fotografiche raffigurante i prodotti clou del mondo della cucina. Tutte le stampe non sono candeggiabili, ma possono essere lavate tranquillamente in lavatrice. Da pagina 4 a pagina 15 non resta che far altro che stupirsi per la varietà e l'originalità dei prodotti proposti. La gustosa Linea Pasta, sia su base nera che su base bianca, con cui realizziamo giacche, bandane, triangoli, cappelli e pantaloni. L'universale Linea Italy, riportante il tricolore su ogni indumento. L'originalissima Linea Fish, per ristoranti, pescherie, pesci vendoli, supermercati e tanto altro. La caldissima Linea Chocolate, per cioccolaterie. pasticcerie, ristoranti e non solo. Il nuovo colore verdone, come base per la freschissima Linea Fruit. Da pagina 16 a pagina 21 si trovano le magnifiche giacche Cuoco Manhattan, con i pratici bottoni a pressione coordinabili con pantaloni, cappelli, triangoli. Tra le novità spiccano il pantalaccio e il cappello Cuoco Cacao. Da pagina 24 a pagina 41 si trova la linea fornitissima di giacche da cuoca. Siccome il numero di cuoche è in forte aumento, Isacco ha pensato di accontentare le signore, dando loro la possibilità di scegliere fra una gamma enorme di tessuti e di colori. Da non sottovalutare, le bellissime giacche nel tessuto Extra Light, di poliestere e cotone molto fresco in ogni stagione, stiro facile. Da quest'anno la gamma è stata arricchita col colore albicocca, verde mela, cacao e rosa, coi profili fucsia. Anche per la donna sono sempre disponibili le giacche nel tessuto Super Dry, sia bianco che nero, che nel prestigiosissimo tessuto saten di cotone 100%. Isacco non offre solo una gamma enorme di prodotti in svariati colori, ma offre anche tessuti innovativi d'avanguardia. Da pagina 42 a pagina 49 si trova la linea di prodotti in Super Dry, il tessuto che respira, che mantiene in modo ottimale la temperatura corporea, che è antimacchia, che non si stira e che ha una lunga durata nel tempo. È disponibile sia nel bianco che nel nero. Da pagina 50 a pagina 57 si trova il top dell'abbigliamento da cucina disponibile sul mercato, ovvero la formidabile linea saten. Il cotone lunga fibra, doppio ritorto, resistentissimo e con una durata molto lunga nel tempo. La morbidezza e la leggerezza di questo tessuto saten di alta qualità danno l'impressione di indossare un capo morbido come la seta. Inoltre, la lavorazione raso che gli è stata fatta gli conferisce brillantezza e molta praticità, in quanto le macchie non penetrano nella trama. Un'altra caratteristica fondamentale del tessuto saten è il finissaggio non stiro permanente anche dopo centinaia e centinaia di lavaggi. Non è da stirare e si presenta sempre in modo impeccabile. Da pagina 58 a pagina 71 si trova una vasta proposta di giacche da cuoco col collo asimmetrico bianche, colorate, profilate, tutte con la rete di aereazione ascellare. Accanto ad ogni immagine sono state messe le foto dei particolari del prodotto fotografato, le caratteristiche del retro, gli spacchi laterali, la rete ascellare. Tutte le giacche inoltre sono dotate di pratiche tasche sia all'altezza del cuore che sulla manica. A pagina 71 si trova la fantastica giacca pretoria nera, con schiena in rete Micro4, con bottoni a pressione, tasche porta penna e porta termometro, realizzata nel tessuto extra light, ideale per gli ambienti molto caldi o per chi ha problemi di sudorazione. Da pagina 72 a pagina 79 si trova la linea di giacche cuoco a mezza manica profilate o tinta unita, sia su base bianca che su base colorata. I colori dei profili sono a prova di usura e hanno una lunga durata nel tempo. Per chi non vuole la classica giacca da cuoco, ma vuole qualcosa di diverso, ecco che alle pagine 80 e 81 si trovano le funzionali casacche Kobe, con scollatura V, senza bottoni, con tre tasche e con la traspirante rete Micro4 sulla schiena. Ci sono le comode casacche alla coreana sia in tinta unita che coi profili. Non parliamo poi della linea esclusiva pizza e tricolore, da pagina 86 a pagina 89. Da notare che le nostre stampe non sono dei disegni, bensì delle vere e proprie foto di diverse specialità di pizza che danno originalità al capo indossato. La brillante linea tricolore, le comode e fresche giacche cuoco extra light, sono disponibili anche a manica lunga. Da pagina 92 a pagina 137 si trovano le linee complete giacca, pantalone, cappello, bandana, triangolo. Ogni singolo capo può essere venduto singolarmente. Alle pagine 100 e 101 c'è l'esclusiva linea sugar, di divise per cake designer sia per uomo che per donna. Ogni singolo capo può essere venduto singolarmente. Da pagina 138 a pagina 147 troviamo le belle giacche da cuoco profilate con bottoni a pallina estraibili, già compresi nella giacca e in tinta col profilo che non perde mai il colore. Le raffinate giacche col collo itali e euro, con le stelle non stampate, bensì ricamate, che possono essere candeggiate senza che perdano il colore. Le identificative giacche col bordo tricolore, che può essere candeggiato. Le pratiche intramontabili giacche a tinte forti nel bordeaux e nel nero, sempre con la tasca all'altezza del petto, il taschino portapenna e porta termometro sulla manica e i bottoni in tinta con la giacca. Da pagina 148 a pagina 151 si trovano tutti i generi di giacche cuoco bianche basic. Il cotone impiegato è sempre lunga fibra, quindi ha una lunga durata nel tempo e si mantiene sempre bello. È mercerizzato e sanforizzato, non si restringe più del 2%, neanche se sottoposto a lavaggi ad alte temperature. È sempre bianco candido. Le giacche bianche si possono avere sia con bottoni a pallina estraibili che con bottoni fissi o a pressione. Si possono avere sia nel tessuto di 190 grammi in metro quadro che nel tessuto di 210 grammi per metro quadro. Da pagina 152 a pagina 169 si trovano i comodi riassuntivi di tutte le giacche a catalogo. I disegni posti in alto aiutano a capire meglio la modellatura della giacca. Da pagina 170 a pagina 177 si trovano i riassuntivi di tutti i pantaloni cuoco. I pantaschef, con i comodissimi tasconi cuciti all'altezza della coscia con chiusura con velcro, dotati di lampo in ottone e la comoda culisse. Gli economici e funzionali pantalaccio, dotati di culisse con laccio nello stesso colore del pantalone, con due capienti tasconi anteriori e una tasca posteriore, i pantaloni classici disponibili in diversi colori e con utile pezzo di elastico inserito nella cintura. Alle pagine 178 e 179 offriamo la gamma completa di divise extra large. Da quest'anno è disponibile nelle taglie extra large anche la giacca da cuoco nera. Con i sacco anche i bambini possono divertirsi a fare il cuoco. Infatti a pagina 180 c'è la simpatica linea di giacca e pantaloni BabyChef, candeggiabili in puro cotone 100%. 181 a pagina 201 offriamo la gamma completa di grembiuli in tutte le misure e colori, l'elegante grembiule excellent, già dotato di catena in acciaio che dice stop al problema dei lacci rotti che si annodano in labatrice. Inoltre alle pagine 184 e 185 c'è l'esclusiva linea di grembiuli Le Mans, molto fascianti, con un comodo tascone centrale riportante tutte le nuove fantasie delle stampe fotografiche. I rondine, i doc, i grembiuli vita, i grembiuli pettorina nelle varie misure. Alle pagine 194 e 195 ci sono i nuovissimi grembiuli d'Aitona da 95 per 95 centimetri con la regolazione al collo con bottoni. Con un ampio tascone centrale sono disponibili sia nei classici bordeaux e nero che nelle stupende fantasie delle stampe fotografiche. I grembiuli cerati alle pagine 200 e 201 sono molto durevoli in quanto dotati di resistentissimi lacci in fettuccia antistrappo. Da pagina 202 a pagina 211 c'è la selezione completa di cappelli, cappelli in carta, i praticissimi cappelli elite, completamente aperti nella parte superiore per garantire la traspirazione del cuoio capelluto. La gamma vastissima di cappelli da cuoco abbinabili a tutti i colori delle giacche. La selezione completa di triangoli da cuoco realizzati anche nelle nuove stampe fotografiche. A pagina 207 ci sono i nuovi originali cappelli Bob che hanno un'ottima vestibilità. Alle pagine 208 e 209 ci sono le fantastiche bandane. Che dire delle nuove fantasie, non sono sbalorditive. E i cappelli sem sia bianchi che profilati e con le nuove stampe? Alle pagine 212 e 213 c'è la linea completa di polo unisex in cotone 100% disponibili in diversi colori. Alle pagine 214 e 215 c'è la super innovativa maglietta silver con fibra d'argento, antimicrobica, antiodore, traspirante, disponibile sia nel nero che nel bianco. Alle pagine 216 e 217 ci sono il torcione in cotone 100% doppio ritorto, indistruttibile, con una grande capacità d'assorbimento. Il nastro per bottoni per rendere più facile la bottonatura delle giacche classiche con bottoni a pallina. Per non parlare poi della splendida gamma di bottoni a pallina in brillantissimi colori che possono cambiare volto ad ogni giacca da cuoco. Da pagina 218 a pagina 221 c'è la selezione completa di scarpe e zoccoli da donna, da uomo e unisex. I riquadri posti sotto o accanto ad ogni calzatura stanno ad indicare le performance di quella specifica calzatura. Inoltre si può acquistare anche un solo paio di scarpe. Non c'è bisogno di fare magazzino. Alle pagine 222 e 223 ci sono le informazioni riguardanti le scritte a ricamo che possono essere realizzate su ogni capo presente a catalogo. Infine a pagina 224 si trovano le vantaggiosissime condizioni di vendita che consigliamo di leggere con attenzione per non perdere delle fantastiche opportunità. Tutti